E a proposito di appuntamenti sabato e domenica a Castelfranco Emilia, Ciocco C'è, una rassegna alla prima edizione interamente dedicata al cioccolato. Ce ne parla Francesca Galafassi. Un fine settimana dedicato al cioccolato, con assaggi, degustazioni, laboratori per bambini e show cooking. A Castelfranco Emilia sabato e domenica arriva Ciocco C'è, festival che raccoglie 12 metri chocolatier, espositori, una decina di studenti dello Sbalanzani e tanti bambini, tutti nel centro del comune per prendere parte ad un vero e proprio viaggio alla scoperta del cioccolato. Verranno 12 maestri cioccolatieri con degli stand che staranno due giorni, più ci sarà in Piazza Garibaldi, la nuovissima Piazza Garibaldi, il laboratorio dove verranno fatte tutta una serie di iniziative di show cooking e altre cose per i ragazzi, per i bambini e lì faremo anche tre o quattro cose nuove. Ci sarà una scultura di cioccolata fatta da uno scultore di Castelfranco, ci sarà il Guinness della tavoletta, faremo la tavoletta più lunga, verrà fatta una pralina particolare, verranno fatti dei tortellini di cioccolata da parte di uno chef. Ci sarà addirittura una partita a scacchi al cioccolato. Alla domenica sotto il portico ci saranno 80 ragazzi, quindi 40 coppie, che si sfideranno in una gara di scacchi con gli scacchi di cioccolata e alla fine i vincitori porteranno a casa i loro trofei.